Hello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video Quest'oggi siamo su The Wholesome Adventures of Captain Spirit Un nome e un programma praticamente Che non è altro che un gioco prequel, tra virgolette prequel, non so quanto possa essere prequel Di Life is Strange 2 Dato che ancora non abbiamo giocato Life is Strange 2 Mi sembra buono fare questo Essendo un gioco a parte non mi pare corretto farlo insieme a una let's play di Life is Strange 2 Non so per l'appunto se c'entra qualcosa, potrebbe essere un DLC, potrebbe essere un qualsiasi cosa, non lo so Però dato che dura poco, ho pensato di poterlo fare come long play Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo Ovviamente conosciamo benissimo Life is Strange Mi piace un sacco la musica quando buttano queste musiche che purtroppo mi vengono copiaretate al massimo Non posso non poterle sentire, sono bellissime Cioè, sono perfette per quello che è tutto Non so la storia e non so niente, ovviamente Anche perché non ho capito che nome del gioco possa essere, però va bene Ricordiamo che Life is Strange in generale affronta dei temi particolari A presto! but I don't know where to begin, but I don't know where to begin again, I lost my strength completely I'll be near me, tired old mare, with the wind in your hair What is this planet? I don't know, I can't believe it I can't believe it Hey cool, let's see if we find some aliens Hey, the ground is moving, the planet is gonna eat us We have to get back to the ship right now Then let's get the heck out of here Oh no, the control panel is not working We're stuck in the middle of nowhere Fun fact, io credo di aver avuto un'infanzia triste perché da quello che mi hanno raccontato anche i miei genitori non ho mai giocato con pupazzetti del genere Cioè ne con i lego io non sono mai stato un tipo da lego in realtà sì ma no perché usavo tipo quelli che c'era mio fratello o comunque non ho mai giocato con sta roba sta facendo volare veramente la cosa o è lui con l'altra mano? Chi ha? Chi ha? No, pensavo che magari avesse un potere, no? Life is strange che anche quell'altra riavolge il tempo Ok Cioè Captain Spirit è la sua personalità o è la sua mano? literalmente cioè lui ha chiamato la sua mano Captain Spirit Now I just need to make a cruel costume for Captain Spirit la sua mano la sua mano forse non è la mano forse è la sua personalità non lo so non posso capirlo perché per l'appunto con la maschera o senza maschera? eeeh no cos'è elmo non le voglio mettere una maschera dagli l'elmo va bene l'elmo facciamo spartano armatura leggera, armatura pesante leggera ovviamente cioè che è che fai la armatura pesante dov'è in guerra leggera e via un po' fighettino magari si riesci l'elmo non è che sta male la maschera non lo so la maschera forse mi darebbe fastidio dai così ci sta scuro colorato no colorato che è che devi fare Batman cos'è? quello è cosa? quello non è uno di Spongebob? che ammazza uno squalo? no? c'entra niente? c'era un altro attore ninja che ammazzava un alligatore è perfetto è tipo un tipo flash però flash aveva la maschera che ci penso e lui sembra più check non so se lo conoscete è tipo un portiere che indossava sempre sto cosa addosso ci somiglia un po' a check vabbè è l'unica cosa che conosco oggi posso fare quello che voglio? spacca tutto la tutto distruggi squalo mobile ma ma c'è un arpione dietro c'è uno scorpione che squalo mobile anche con le macchinine io raga non... cioè intervieni cos'è intervieni? cos'è intervieni lì? non fare niente ammazzalo fuck off io non ho mai giocato neanche con le macchinine cioè no allora sì però con le piste per le macchinine non non proprio con le macchinine lì che mi mettevo a fare le storie non lo so io penso di aver avuto poca com'è che si dice? ho avuto poca poca immaginazione da piccolo credo meglio sono perdi le dita si usano i petardi raga mi raccomando non da bambini ma da adulti poi se perdete le dita queste sono cacchio vostre però vabbè c'è una console cos'è? è una play 2? ecco io ragazzi avevo la play 2 esattamente in quella posizione solo un po' più verso il bordo del comodino ecco la play 2 aveva i cavi e i joystick tiri il cavo no non è una play 2 comunque sembra una play 2 ci assomiglia un sacco c'è anche i bottoni e tutto sembra quella strano vabbè perché ovviamente non è loro fosse stato di sony l'avrebbero fatto bene però potrebbe essere una play playstation proprio scritto così dear santa i think fammi leggere ho carava natale credo di essere stato proprio quest'anno quindi vorrei queste cose cuoricini una volta l'ho scritta anche io una lettera old dog adventures per la play box che sarebbe quella una play box ovviamente prima ordini la sella e poi il cavallo carta da disegno più penne colorate no che non lo vuole più e lezioni di basket baci baci chris ok quindi lui è chris abbiamo capito come si chiama almeno letto da rifare tipo ok non ha detto che posso fare quello che voglio power bear e noctaris questa roba aspetta oddio ma è quello di prima power bear è è quel disegno la mantroid ti controlli metroid ha detto metroid e non ma cosa stacchiamo ma cosa stacchiamo meglio noi non abbiamo ciò le campi non è difficile ma cosa stacchia che seriamente io non ho mai avuto un'infanzia adesso che ci penso che tristezza taci dobbiamo ammazzare a tocco coltelli si comunque si mette a giocare il babbo la che ci aveva chiamato è morto morto ecco colpo della strega la vecchiaia gli ha spaccato la spina dorsale guarda l'ho cattivissimo è spaccato la schiena della spina dorsale non si muove più posso fare distruggilo come faccio a fare distruggilo distruggilo inferisci c'è proprio lui si inventa è assurdo lui si inventa intanto la scena e poi si inventa l'altra scena di lui che comanda loro distruggilo fai saltare la testa metroid il sangue va bene se non si 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 scusa vado avanti rb arrivo andiamo 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 che sennò quello si arrabbia mai capire io se non associassi il fatto che è un bambino prenderei per un po' di problemi c'è uno con dei problemi però è un bambino quindi ovviamente l'immaginazione non ti hai ignorato c'ha ragione bambino è bellissimo è partito tutto gasato posso fare quello che voglio versati il latte da solo ok è comunque rimasto anche molto calmo cos'è ma la birra di mattina mi piacciono come le faceva la mamma non so come le faceva la mamma mi dispiace però forse sono buono calmo calmo stai bevendo stai bevendo no ho sbagliato porca maca non so i tasti c'è cacchio volevo dire cacchio stai bevendo la birra di mattina poi ne aveva lì altre aperte mi sa che è un po' somma ah no ah no ho visto i film sbagliati mi sa eh cosa ha fatto il braccio un lividozzo visto ma prima lo muoveva bene no that's fine I worked it out I just wanna make sure you're ok buddy si va bene so so you must be excited for christmas anche te oh yeah are you excited too I don't know Santa probably put me on his naughty list this year meh Santa says you still got a present what do you want whatever makes you happy chris that's the best gift ever quindi ho già capito che comunque sua madre è morta you said we could get a real pine yes I did and yes we are cioè dal tono con cui diceva la mamma le faceva meglio che non l'ha detto però comunque si intendeva anche perché comunque non penso cioè se lasci il figlio un padre così o la madre è peggio vedi vedi che c'ha ne è di più lì quindi non saprei pure corretto caffè no scusa un attimo non ho capito non ho capito scusa cioè gli aveva detto aveva ragione sul fatto questa casa non è anche mio anche i miei genitori mi dicono sempre questa casa non è un albergo che hanno ragione aveva ragione su questa casa non è un albergo muoviti perché ho da fare cioè non è che siamo qua e tutto il suo da fare è quello il suo da fare è guardare quella no cos'è che è la mia fantastica cosa da fare posso fare il costume della scampione spirit forse se troverò quello che trovo in giro ok il capitano del tesoro è qui in giro devo mettere le parti della mappa per scoprire il cammino ok cosa dobbiamo fare quindi è tipo un fammi lavare i piatti se ho già capito come funziona qua tocca tocca diventare l'uomo di casa non ho capito se devo fare tipo delle delle mansioni in casa o comunque cioè la mia giornata devo fare tutte quelle robe lì ma non credo puttavia no se non gliele tocchi guarda che se no anche perché non so per quale motivo ma ho come l'impressione che posso correre? aspetta no non gli spaccolo la lampadina ho come l'impressione che quel quel livido non se lo sia fatto a caso la porta buia guarda no grazie decorazioni natalizie panni sporchi puoi prendere i panni sporchi? che bello un bambino che fa fare le lavatrici sta facendo già più robe di quelle che faccio io eh tiè io non faccio un cacchio sto usando questo bambino per per fare tutte le cose che non farei mai nella mia vita proprio che schifo chi lava i panni guardalo guardalo allora babbo stavo fatto la lavatrice comunque non ti preoccupare te sei pure lì a guardarti la tua partita the basket abbiamo un telefono ah è lui il dog man non ce lo vedo papà vendere case wow is he getting us tickets again? best dad ever that would be a blast being a freight hopper choo choo ma suo babbo vende case quindi? pagine di papà vabbè a me non me ne ferra niente di sta roba scusa un attimo io cosa sto facendo della mia gioventù qua babbo? god damn you are on fire si grazie babbo grazie va bene capito vado un attimo di qua la camera del babbo meglio se non la faccio posso lavarmi un attimo anche perchè non so cosa ho mangiato sembravo di aver mangiato non so se erano delle uovo strapazzate non ho un'idea guarda come urlano lì la poi la mattina giocano guarda quando fumetto di coso ma una musichetta di qualcosa non so ma che tristezza è sta roba la calendario dell'avvento oh no le ha aperti già tutti è un grande lo faccio anch'io no non è vero l'ho fatto una volta poi me ne son pentito perchè i giorni dopo non avevo più inizio da mangiare fuck cosa abbiamo qua di bello? abbiamo un mantello non dovevi non dovevi cosarlo? raga cosa devo fare qua? scusa un attimo cioè io mi guardo io mi guardo in giro e non vedo niente walkie talkie tra un po' io vado di casa eh non mi interessa ho visto che si poteva uscire scappo vado da sopra neve mante c'è neve mante l'altro è scaldamagno si si è proprio lì se lo è in casa andiamolo a vedere già che ci siamo tanto qua non c'è un cacchio da fare scusa almeno se devi fare qualcosa ciao babbo oh yeah that's how you dominate that's it anche a te cosa fa? ah ok coi calzini? ah no coi dopo sci cacchi esistono ancora i dopo sci non con tutta la neve che non abbiamo mai avuto finalmente e che cacchio c'è un cacchio da fare in casa che tristezza tanto pur che ascoltare qual'altro che parla da solo ah cacchio aspetta ma anch'io sto parlando da solo oh spalla la neve vai questo è quello che deve fare un bambino bravissimo si sveglia la mattina fa colazione lava i piatti fa la lavatrice spalla la neve davanti alla casa perfetto è un bambino esemplare ragazzi oh bravo punti extra ma non ti preoccupare bravo ricorda che l'hai fatto per per un tuo vabbè primi reti per correre oh possiamo anche correre forza fammi vedere cosa possiamo fare a parte che non c'è un la chiave magica non c'è un ma è casa mia questa ha nel senso di pallet ci sono delle robe è sempre a casa mia no? che tipo di superpotere? che tipo di superpotere vuoi? sì io ho sempre desiderato l'invisibilità non vi dico per far cosa però mi è sempre piaciuta l'invisibilità l'invisibilità sì va bene nevemante è lui una volta avevi fatto anche un film sai che si sta sciogliendo nevemante? nevemante ti vedo ti vedo un po' giù di morale che ha messo? un 3G cristallo in mano? al posto del braccio? lattine di birra al posto del naso giusto per c'ha il 3G cristallo al posto del braccio va bene dove è la casa sull'albero? acqua talina rotta molto bene puoi salire? c'è delle cose che dovevamo fare non riesco a farne mezza praticamente come faccio a fare le cose? sì comunque casa sull'albero per voler dire sono due travi proprio buttate a caso e insomma ma cioè io non so in america in america possono farlo perché comunque c'è magari c'hanno anche tutto c'hanno tutto lo spazio magari c'hanno gli alberi i giardini loro e tutto ne vedi un po' di meno c'è meno tradizione qua però penso di averne visto di migliori abbandona apposta si sono già rotte le palle così non penso ci fosse niente da fare era giusto per rilassarsi quello è il pugno di PewDiePie? o sbaglio? che fa? lo picchia un pugno scorta segreta aspetta scorta segreta apri apri tieni premuto lt per visualizzare i poteri quando compare quella roba lì lt? che cacchia di tosto è lt? lt? oh ok ci siamo dai non andava più sconnesso open sesame hai usato la mano così cos'è sta roba? guarda la mamma disegnare i suoi fumetti ah cosa mi sembra andarono in il piazzo preferito la pizza buon San Valentino fantastici proprio dei bei fumetti decodificatore segreto mi sa che abbiamo entrato una mappa abbiamo entrato una mappa per il coso? lettere della scuola? abbiamo entrato un pezzo di mappa aveva detto che c'erano due pezzi di mappa ma non posso capire il signor Erickson le scrivo per informare questa settimana dopo le lezioni il suo figlio Chris ha avuto una piccola lite con un mio con mio figlio Harry Sorber e i suoi amici Chris ha detto che stavano facendo cose inappropriate su di lei eh? ah dicendo cose inappropriate su di lei ma le assicuro che Harry non è quel tipo di bambino in ogni caso la conosce solamente tramite me come già saprà Harry è uno studente modello è un bravissimo boy scout ho già capito che tipo di padre forse dovrebbe parlare con Chris se questa situazione si ripeterà sarà quest'artereologio nella scuola credo i saluti Brett Sorber questo è il classico padre che dice tipo eh mio figlio è un figlio è uno studente modello tutti i voti buoni va bene a scuola non può fare a botte è sicuramente colpa di suo figlio in milanese un po' c'è la collacente eh vabbè pagella matematica 8 o meno educazione fisica 6 inglese 7 storia 7 e più educazione artistica 10 poia credo di non aver mai visto uno di questi voti cioè vanno vanno anche sopra il 5 incredibile no vabbè sarà tipo il sistema americano sicuro non penso non esiste sopra il 5 il voto in Italia no? credo noctared sarà il fratello di nocturnis basta? bello me ne vado grazie nocturnis noctared però abbiamo trovato un pezzo di mappe intanto non so se tutta l'altra cosa ci serve per qualcosa non ne dico fammi vedere anche un attimo no allora mi scordi super forte andando a tenere occhio mantroide super cattivoni perché colorato questo? non ne ho idea potrei giocare a muster party 2 ma prima devo sbloccare il telefono di papà questa volta lo scaldabagno non riuscirò a sconfiggermi lo scaldabagno sarebbe, va bene mantroid si sta ancora nascondendo nel suo pianeta con il mio costume completo per usare la nave spaziale e scovarlo la mia mira sulle pericolosissime lattine di birra parti dalla mappa non so cosa sia nevemante vuole fermare aspetta nevemante cosa ha fatto? cosa hai fatto nevemante? combatti posso tirare un pugno? fai? ma perchè si ferma? non vanno i tasti raga stacca sto gioia e si guarda le palle get the fuck out man don't give a fuck andiamo avanti come si gioca? col mouse è vero che c'è anche il mouse va bene scontro? tocca che gli fai un drop kick cioè devi aprirle in quattro sono tre pezzi ma devi farne quattro c'è lì quasi non ha funzionato vero? ah è pronto a combattere ma ha perso un occhio poverino non è un po' sleale da parte tua? non si può più uccidere? ah ma scusa nevemante schifino ha fatto quindi? nevemante vabbè quello vuole distruggere la città solo io posso fermarlo e come? ha perso l'occhio è sparito l'occhio nevemante no non si può non è pronto è finito o devo prendere qualcos'altro tra l'altro ho scoperto anche il tasso per correre va bene a posto o devo prendere qualcos'altro tipo una motosega o un bastone dal vicino magari potrebbe essere anche una buona soluzione anche quella e io lo spacchiamo in testa io avrei fatto un drop kick comunque non lo so darebbe più soddisfazione sicuramente pila di rifiuti ah ecco la rotella wow dove sta andando? ecco solid snake mo chi è? ma chi è che mette i rifiuti in questo modo? delle assi delle travi di di comica che si chiamano vabbè quello vai a sinistra vai a destra andiamo a sinistra un castello ma cos'è? ragazzi? ma non c'è niente cosa vuoi che ci sia? andiamo a destra stavolta ma quanto grande poi? a destra mi sa che c'è la fine lì cioè va bene io credo che mi sto perdendo mi sa che mi sto perdendo allora credo ci sia tipo un percorso da seguire fermo no anche perché adesso voglio vedere un'altra cosa eh mi sa che lì c'è il tesoro cioè scusa ma è ma è è grosso due barra tre volte te boh cioè nel senso mi son perso va bene posso leggere questa? c'è qualcosa da sapere? no magari tipo da tirare in ammazzata che palle sto bambino mamma mia cosa? ma non ci credo divertimento per tutta la famiglia porta la tua arma e gioca con noi vendita di dimostrazione di Natale al poligono di tiro di Harry l'onesto poligono di tiro va bene dobbiamo andare c'è il poligono di tiro? o no non mi ricordo devo fare un attimo una cosa in casa se non sbaglio aveva detto che c'era non riesce a salire le scale va bene aveva detto che doveva sbloccare il telefono di suo padre o una roba del genere bella sta città esterna mi è piaciuto si è rinfrescato proprio di mattina no? quando non c'è un cacchio da fare cosa fai? esci ti fai le uova intanto un bel piatto di uova esce al freddo perfetto è proprio la roba perfetta allora sblocca eh? no che palle che cacchia che cacchia ne so io si era scritto da qualche parte eeeh vuoi qualcosa? cosa sto facendo? sto cercando di parlare padre hello grande ma li passo davanti al televisore e mi mera aggiungi legna non ti ho chiesto di portarmi? cosa? non mi hai chiesto niente babbo ti sto parlando gli sto parlando babbo no so cosa stai facendo smettila e poi cos'è che rompe? questo come si chiama? tronchetto ah no dicevo il nemico qua non c'è un nemico oh guardando le statistiche il dinosauro giocattolo fuck you daddy mazzo quando ho 3 fps quei bambini quei cose non sapevo che potessi diventare invisibile hai visto? grande eh che vede la macchina pezzito nell'angolo cioè dovevi appoggiare le liti sono caduto dietro il divano va bene sediti sul divano una bottiglia di whisky io che divento invisibile un attimo solo abbiamo abbiamo quasi ciò che ci serve credo cioè dobbiamo trovare intanto posso provare ad entrare qua si devo trovare un paio di chiavi in realtà abbiamo un profumo che potrebbe essere il suo come potrebbe essere quello di sua mamma che cacchi di chiave è questa? dimmi che era lo sgabuzzino che mi serve era proprio quello che cercavo posso? fatto? non la lascio accesa perché consuma ovviamente sarebbe anche da fare con le con le lattine qualcosa dentro l'armaggio che dobbiamo? ha detto booby trap come? ho sentito? ho sentito bene? la play box la palata basket ovviamente c'è una lettera qua non mi ha mai detto di avere una nuova amica? charl charl vabbè scusa per quello che ti ho detto l'altra sera ero arrabbiata perché sembra sempre che non mi ascolti quando mi sfogo mi lavoro a volte non lo sessano so che stessa anche te e per questo che voglio essere più che una volta nella tua vita mi spiace vederti così triste quando tu mi rendi così felice non vedo dolore di conoscere tuo figlio ho una sensazione che tu ti vergogni di me non arrabbiarti spero di sbagliarmi a volte dici cose che mi feriscono stiamo contentissimo a te e volevo solo dirtelo per farti capire e vedo un futuro insieme a te quindi spero che tu sappia che questo messaggio viene direttamente dal mio cuore la tua piccola ballerina Udra ma Udra non è un nome di di... non lo so tipo un qualcosa del lago lago Udra no? c'entra niente? Carlo Charles ho 12 anni da grande e voglio diventare un giocatore di basket professionista i miei genitori mi portano sempre a vedere le tue partite sei un grande l'ultima partita è stata la più bella della mia vita spero che ti chiamino a giocare all'NBA Todd Hubble mi sa che era un giocatore di basket l'alcol ti sta eseggendo non sei solo possiamo aiutarti contatto a vincere l'alcolismo servizi alcolisti anonimi signore e signora Eriksen nonostante continui proroghe e garanzie ad oggi ci risulta il mancato pagamento della terza rata del mutuo cerchiamo sempre di comprendere e di rispettare le varie situazioni dei nostri clienti tuttavia in questo caso il nostro ufficio ritiene di avervi concesso già abbastanza proroghe mancanza il pagamento del restante ci vedremo costretti a pignorare questa proprietà allora aspetta questo il 12-6-2015 ottenere un attimo le date così magari scopriamo anche quando magari è morta sua mamma perché mi sa che lì era ancora vivo 12-6 nonostante la nostra faceltà rispetti la sua reputazione e il suo impegno continuo la ricordiamo che è stata ripresa benvenuta e il suo comportamento è aggressivo a informiamo che a seguito del recente incidente relativo alle latine di vira trovate in piscina dopo la chiusura abbiamo deciso di terminare il suo contratto con effetto immediato cosa? ci seguiamo per il disagio ma ci teniamo a ricordarle che operiamo sempre eh? nell'interesse della sicurezza dei nostri studenti alleghiamo inoltre un opuscolo informativo con un numero da contattare per problemi di alcoolismo cosa c'entra la roba della piscina? distretto scolastico di Sannecric la sovrintendente Mangum non ho capito piscina? cosa? che piscina? di che piscina sta parlando? aspetta ma noi abbiamo ancora la chiave? non so come posso vederla ma abbiamo le chiave della macchina ah quello è un pugno che ha tirato voglio provare ad andare un attimo nella sua macchina e vedere se riusciamo a rivedere qualcos'altro perchè sicuramente lo scaldabagno è la qua non c'è niente vero? no sicuramente lo scaldabagno è nel ripostiglio com'è che si chiama? butta via? ma son vuote? non le devo usare per sparare? polverizza? mi piace polverizza fortissimo grande poi tutto lì a butta vabbè farò stesso aggiungi un gelato no vabbè non mi va il gelato l'inverno gelato è l'inverno numero di telefono posa le chiavi della macchina aspetta 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 ci penso io posare le chiavi della macchina non ti preoccupare tanto con altre fuori allora vediamo un attimo mo scivolavo giù le scale e morio fatalità esamina spero che papà non arriva in problemi perché sono qui il 29 novembre 2016 quindi è già passato un anno anche sono la dottoressa Tambra Fulman dei servizi sociali di Beaver Creek in quanto rappresentante della scuola elementare della zona vorrei invitare lei e suo figlio Chris nei nostri uffici di Water Street questo lunedì per discutere della vostra situazione attuale per qualsiasi domanda può contattare il nostro ufficio servizi sociali no scusa ma c'è tutto questo disastro per qualsiasi super guida che palle volevo guidare babbo vado a prendere un attimo una roba oh si può? ok qua troveremo qualcosa di utile di sicuro compro un garage per metterci il box e non la macchina grande no che fa? ma che fa? ma fa cagare inutile sto bambino l'ho presa cos'è che era col spazio? c'era un altro tasto ah salta ma perchè non riesci neanche a salire sta roba il bambino qua? ma dai ma guarda te ho bisogno della palla ma non credo no non credo e allora cosa devo fare? scusate un attimo credo di essermi perso un pezzo forse le chiavi possiamo anche rimetterle via non penso che ci servino guarda guideriamo dopo mmm Ti sa perché mi ha dato l'opzione Butta via Ma mi sembra un buon Guarda lì Cos'è quello che si muove? C'è un Super lancio Vai Ma questo è ancora acceso Porta buia Ma l'ha visto prima poi il coso O sbaglio Ce l'avevamo prima il mantello Perché non se l'hai messo? Indossa sfacacchi di mantello Forza Si cacchi di tasti Colpo del joystick non va Sicuro Dai Adesso si fa tutto Oui Adesso spacco tutto Si Allora Anzi Forse ho anche un'altra idea Mi sa che adesso posso andare a distruggere qual'altro No prima dovevamo sbloccare il telefono per quell'altro Calendare non c'era niente Il pin non so dove trovarlo Il pin Non saprei Forza Oh god No Si Devi 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 Vai Dobbiamo andare dallo scaldamagno Assolutamente Comunque hanno messo gli interruttori apposta per queste robe Stai a vedere dove entramo Mondo parallelo Va bene Ma Poteva anche lasciare aperto Tipo Cos'è quel robo Vado Ma si lasciava aperto un attimo per lo spiraglio di luce che arrivava No Troppo complicato Mamma Sei tu Scaldamagno Non mi fai paura mamma Doma Devo cliccare Credo di star cliccando Abbiamo domato Abbiamo domato lo scaldamagno Madonna Ma immaginazione o droga Cioè no Nel senso Cioè Certe volte Non No Assolutamente Ah Si colorano le cose Vedi Scaldamagno Check Non so cosa voglio dire Devo giocare a master Devo sbloccare il telefono di papà Ma Voglio fare un attimo Con neve mante Le lattine di birra Non so quali siano Sì va bene Le lattine di birra Non so Che fine farli fare Perché non le Non le ho viste Cioè L'unica che avevamo Le abbiamo buttate Quindi Praticamente È tutto un Prendi roba Fai cose Ma tipo Un grande Se Se riusciamo a trovare Il numero qua Allora Questo compri biglietti Questo non c'entra niente Cose di papà Informazioni di cose Non c'entra niente No non può essere qua Dobbiamo trovare il pin Raga Numero di telefono Telefono di cosa Papà spizzeria Re Runo Job Pizzeria da bava Reynolds E cellulare di papà Va bene Non credo Ci sia un numero Di qualcosa Posso girarlo No Abbiamo un telefono No che se ne frega Lista della spesa Cartolina varie Un frigo Mi serve La password Mi serve la password Per quel robo Fa cosa E' morto E' morto E' morto No sta dormendo Peccato Fotografia del basket Fototrofei No mi serve Mi serve un codice Allora Dobbiamo trovare Intanto anche i pezzi Adesso funziona Lo scaldamagno No lo so Adesivi vari Fumetti Ma che cacchio Me ne frega Di sta roba Niente Andiamo a cercare In stanze In stanze Sicuro c'è qualcosa Allora Chiudi l'armadio Intanto Mi da fastidio Ok Fumetti vari Dividi Casa Casa degli insetti C'è un raglio in casa Che schifo Che schifo Che schifo Noctarius Tatuaggio Applica Ah sarà uno di quelli lì Che va via con l'acqua Io ce li avevo Erano quelli di Polaretti No dovresti metterci Dell'acqua Tipo Oppure No Va bene Mi pare di aver visto Anche che dobbiamo Squadra di Mantroid Mi pare di aver visto Anche il Qualc'ha che si chiama Non mi ricordo Eh Praticamente Dobbiamo Dobbiamo usare Tutti i personaggini Aspetta Decifra Clicca e trascina Per muovere In che senso Ah Rotella per ruotare Fermo 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 Mancano delle indicazioni Kowalski Non si può fare Abort Mi serve un altro foglio Ma dove l'ho preso Il foglio poi quello Manuale di disegno La parola basket Guerrero della foresta Vedi tipo Mi sa che dobbiamo Cercare tutta sta gente Rimambita qua Sì 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 qua TV cosa c'ha eh Accendi Deve calcare Torni alla password Del pin Per il telefono Forse in camera sua In su Funziona comunque Funziona un sacco Allora Fammi vedere se riusciamo A trovare qualcosa Scatolone Niente Borsa sportiva Rivista Andiamo avanti Cosa come armatura Cosa Indossa Ma cosa Il borsone Ma si mette il borsone Ah no la benda Ok Stiamo Ci stiamo assemblando Comunque pian piano Sedia Aspetta Possiamo mettere la sedia Lì sotto E lui va a prenderla Ci siamo fasciati Tutto il corpo Praticamente Va bene Stavo anche a dorme Perché sennò Dice Aprile Gentile capitano Li Dato che non ha risposto A nessun'altra Delle mie chiamate Delle mie mail Le scrivo questa lettre Per dimostrare Che mi preoccupo Di questo caso Più di lei Dell'intero Dipartimento di polizia Proteggi Di cittadini Contribuenti Il suo dovere Mi auguro Di ricevere una risposta Alla cosa Che sono A guandana Di nuovo Cosa vuol dire Mi preoccupo Di questo caso Di che caso Capisco Sebbene capisca Ciò che ha dovuto Aspetta Questa è la risposta Passare negli ultimi anni Purtroppo rassicuro Che ho eserito ogni risorsa Se riguarda questo caso Difficile Se desideri discutono Ultimamente in modo civile Rimango alla sua disposizione Date le circostanze Le invierò Una fattura Per un solo mese di lavoro Investigatore privato Questa è un'altra risposta Siamo aspettati Di informarla Che i dati Di sorveglianza Delle telecamere No questo è prima I dati di sorveglianza Delle telecamere Dell'incrocio Tra Asteroid Drive E Mantle Streets Non sono disponibili Alla pubblica Senza un mandato Di indagine statale federale Per questo motivo Non possiamo aiutarla Cioè Barbi Bragamonte Supervisore strade Statali Aspetta Questo è il gennaio 20 E questo è settembre 28 Ma del 2016 Ma del 2016 Dell'anno dopo E questo è aprile 2015 Invece Quindi questa è la seconda lettera La prima gennaio A gennaio Gli ha chiesto praticamente Di vedere Di visualizzare il filmato E l'incrocio Tra Quella roba lì Poi ha chiamato L'investigatore No Poi ha chiamato Il tipo della polizia Poi ha chiamato Quell'altro L'investigatore privato A ferrovia Ok Mi serve un numero Mi serve un numero Di Di pin Raga Finché non trovo il pin Siamo Brancoliamo nel buio Immaginavo che fosse Insomma No più che altro Per la forma Anche perché Non so Non so Profumi di uomini Però Non penso abbiano Quella forma Allora Vabbè È morto Qua daranno Delle statistiche Abbiamo un giocatolo Per terra Che possiamo Vedi Forse abbiamo fatto qualcosa Non so cosa Allora Dovevo bloccare il telefono E ancora Quello non ce l'abbiamo Le bende Mi serve un casco Credo Tesoro Che forse Alla sotto In mezzo Alla roba Le lattine Dobbiamo trovarle Andiamo a spaziare E scovarlo E quella Dovrebbe essere La C'è la nave spaziale E la macchina Allora raga Dobbiamo trovare Assolutamente Ha finito le bottiglie Di whisky Dobbiamo trovare Assolutamente Un pin Oh Chiave del garage Trovate Trovate Non usiamo Non usiamo mai questa parte D'inverno Perché nevica un sacco Spala L'hai fatto Spala Eh No Mi fa ridere Anche il fatto Che tipo Nonostante Le case Questo tipo di case In America Siano un po' Modeste Se si può dire Sono normali In senso Non è nulla di Esagerato Aveva il frigo doppio Aveva il frigo Con tipo Il cosa del Del ghiaccio In America E' proprio una cosa Normalissima Averle in casa Un mustre Accendi la luce Tipo Sì Satana Queste sono delle lattine Lucchetto Abbiamo delle chiavi Porca miseria Che palle Mi serve il pin Vernice spray Vecchia scatola Emily Erickson La madre Questa nel 2011 Quattro anni prima Quando ho preso L'accademia Volevo scrivere Le persone per incansare Per il suo continuo Supporto ai progetti Artistici Nel nostro presidio Da scuola Sa piacere Sporre i suoi lavori Ok Quindi sì Presidente Sua mamma Era un artista Quanto pare No No Preside Ray Wells Accademia Blackwell Arcadia Bay No Non ci credo È la roba dell'uno È l'accademia dell'uno 2006 Questa ho dieci anni fa Tipo Più o meno Mi hai ricevuto la lettera di missioni Prima di tutto Vogliamo concordare per te Per la tua gravidanza Ah quindi questo Quando sono nato io Anche se sei molto felice Per te la famiglia Ti dispiace per perdere Una studentessa E un artista come te Due vignette uniche Eventualmente quando sarai pronto Sperando ti riprendere in considerazione La possibilità di tornare I miei migliori auguri Jennings Va bene niente Non ce ne frega un cacchio Buonanotte Buonanotte tesoro Si è preso di nuovo il raffreddore Te lo ho detto di mangiare più frutta Ah buonanotte Buonanotte Lei li frega Ovviamente Come fanno le donne Li frega La cosa La coperta Lui congela E la mattina dopo il raffreddore Lei li fa Te l'ho detto di frega Vediamo Se il bambino che piange What's up buddy Cosa? Ah Oh ok Facciamo che questo non lo spiego Vabbè Nel senso Vabbè Vivianza di quartiere L'atleta e l'artista Emily Eriksson Va bene L'abito non fa il monico In modo di questa Questo è tipo il loro incontro Comunque quelli che erano Uno era un Un giocatore E l'altro era un artista Va bene A me sono date raga Io voglio date Maestra come Maestra d'asilo Ti voglio bene Senni Eriksson Tutti i bambini Che lo vogliono bene Va bene Magari sono un alieno Sì Esatto Dov'è il mostro di Satana Che gira? Lo sento Scarponi da trekking? Ma che cacchio Ma non c'è una password Qualcosa da prendere? Da nessuna parte? C'è neanche scritta A vero C'è spray Sì va bene Dov'è il mostro? Non posso neanche spostare I cosi Non è che mi attacca Al buio Tipo No Magari che Come facciamo A prendere Il mostro Scusa All'a detto Che era lì Forse non possiamo ancora Ma raga Ma mi serve un casco A me comunque Non vorrei dire niente Ma mi serve un casco Quello ancora Non possiamo farlo Dovendo cercare Delle lattine Mi serve un casco Posso uscire da qua? No Posso Sono lattine A cui sparare Credo Oh cos'è? Beaver Creek Sucks Va bene Potremmo fare anche Sta roba Allora Allora O provo Ad assemblare La mappa O proviamo A vedere Qui posso fare qualcosa Allora Torniamo un attimo Sull'albero Torniamo un attimo Prima voglio fare Un attimo Nevemante Non so cosa ci sia scritto Eh ma non lo scassi? Tra l'altro c'è le sigarette in testa Mi ha messo le sigarette con i capelli Questo è l'albero Ma quando finisce il nostro giardino? Scusa un attimo Quanto è grosso? Ah forse è finito Non ho trovato ancora le lattine comunque Quindi non saprei cosa sparare Questa è rotta È troppo pericoloso L'altalena Va bene Babbo Grazie Per la tua preoccupazione Ma anche tipo Un po' troppo Intanto Allora fammi vedere Sì la fortezza volante Voglio andare a vedere su se Se abbiamo dimenticato qualcuno O qualcosa Qualche pezzo Mi serve un casco Mi serve un casco Non so per cosa Ha detto A parte il casco Completa il vestito E quindi con quello interio Possiamo prendere la macchina E Volare Qualcosa del genere Allora il pirata l'abbiamo fatto La scorta segreta Che se ne frega Una vecchia ciotola No Aspetta mancano gli ultimi Gli ultimi bambolotti qua Sì è Froden Noctared è il figlio di Nocturnis Chiaro Giusto Giusto Rifammi vedere un attimo Dentro la cosa Non lo so Mi serve un I pin Datemi il pin Ci sono Cioè Quindi andavano Praticamente Nei cerchi Andavano i numeri E le cose Ha dei miei zoom Sottolineato Eh lì nel coso In mezzo Allo scattafascio Tocca andarlo Cioè Nello scattafascio Mi serve una mappa O giro a caso Io provo a girare a caso Nello scattafascio Te la vai sempre a destra Fidati Fidati di me Ah mi sono perso Ah Allora andiamo a sinistra Fidati di me Andiamo a sinistra Ti preoccupare Facciamo Ancora a sinistra Non serve alla mappa È semplicissimo Infatti A meno che Non mi stai dicendo Che è sbagliata Aspetta un attimo Andiamo a sinistra E poi andiamo A destra Non sta dicendo niente Andiamo un'altra volta A destra Questa è la regola Del vero falso Ora andiamo a sinistra Ogni tanto ragazzi Va messo Allora quando voi rispondete Se fate vero falso Dopo che fate vero falso Vero falso E tutte le robe così Dopo un po' Ci vuole un coso doppio Cioè se ti hai messo Vero falso Vero falso Vero falso Poi non è che puoi fare Avanti e indietro Tocca che metti Magari vero vero falso Vero falso falso Fai anche tre falsi Devi Mischiare No Guarda 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 Uno sinistra Due destra Tre sinistra Quattro sinistra Era quasi giusta L'idea era giusta L'idea era giusta però Io avevo fatto Sinistra Destra Sinistra Destra Destra E invece era Sinistra Cacchio Non mi ricordo più Allora ci siamo Tutto qui Sinistra Ero partito con destra Prima No forse no Vabbè era sbagliato Già dall'inizio Quindi non andava bene Bisogna ricominciare Da capo Sono quei trucchi Nei giochi Certe volte Che tipo Devi ricominciarli Da capo E non sai come fare Perché magari Sbagli qualcosa Vabbè Allora sinistra Destra Sinistra E capi La cosa divertente È che quella mappa Non so Non sai nemmeno Quando l'hai fatta E questi scarti Queste pile Di roba Ci sono ancora Dal tempo Vabbè fa lo stesso Sinistra E sinistra Easy Easy Guarda lì Occhi fluorescenti No Fantastico Bellissimo C'è là sotto Noi avremmo fatto Penso Una decina di metri Almeno E siamo semplicemente Usciti di fianco Belle ste avventure Tra i rottami E il tetano C'è la sua mamma C'è la sua mamma Ma sta piangendo Ma sta piangendo O sei drogato Mi sa che gli è entrata Una scheggia di tetano La scheggia di tetano Una scheggia di 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 Che si chiama Di alluminio Non è neanche alluminio Sarà Sarà quel materiale Che adesso è tipo Illegale Perché cancerogeno Mi ricordo come si chiama Aspetta un attimo Sì abbiamo fatto Roba del tesoro Va bene Mi manca il casco Ma Va bene Mi manca ancora Un sacco di roba Comunque Mi manca il pin Del telefono Dove c'è Che lo trovo Ah porta fuori Portiamo fuori Il bisogno Della spazzatura Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Nel senso Magari possiamo Tirare via Si lanciano Tanto sono le bottiglie Di vetro Aspetta 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 Te l'hai lasciato fuori Ma non hai capito Che io adesso Vengo a prenderle Dovrebbero esserci Le lattine Prepara il bersaglio Oh Però c'è anche Il problema Allora Una cosa Non mi tornano Un paio di cose Come facciamo A picchiare Il pupazzo di neve Dobbiamo menarlo Non distruggerlo Il casco Il pin Soprattutto il pin Devo mirare io Pure Non bisogna Non bisogna mai Mirare A quella centrale Basta Bisogna mirare A due Bisogna mirare Presente alla base In mezzo a due In modo che Quella lì Colpisca Quella esterna E cada tutto Segreti ragazzi Segreti Vi insegno tutto Non vi preoccupate Infatti si vede Come ho fatto La roba Eh vabbè Raga io vorrei provare Una cosa 2005 Per me 2005 Può essere Un cosa importante Perché pare aver vinto Un trofeo Nel 2005 Cioè questo 2005 Continua a tornare Quindi potrebbe essere Un qualcosa di Eh Di Utile Nel senso Un qualcosa Che metterei Come pin Fuck Proviamo però Con la cassaforte Aspetta Allora Proviamo 2005 Wonderful Wonderful No E Allora Petardi Così Prendi Non so per cosa Forse vogliamo Far esplodere Forse posso Far esplodere Neve Mantis Neve Manto Come è che si chiama Va bene Raccoglitore Riesciamo a trovare Altre Altre cifre Donna del posto Uccisa Al pirata Alla strada La madre Polizia Sta cercando Il testimone Oculari Di un incidente Mortale Avvenuto Alle 19 e 15 Di martedì 16 Dicembre 2014 Alle incroci Di Mantle Street A strada Vittima Emily Eriksen 28enne Di Beaver Creek Stava lontanando Alla sua auto In panne Quando è stata colpita Da un veicolo In corso Non ha identificato L'hanno lasciato Marito e figlio Che in quel momento Non erano con lei Capitano Anderson Ha dichiarato Che le telecamere strade Potrebbero avere Distratte indizi importanti Stiamo trattando Come un caso Di micidio stradale Preghiamo Chiunque Aveva informazioni Sull'incidente Chiamare il numero Verde Anonimo Blah 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 Chiara Moglie Blah 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 Emily Nata Il Blah 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 Dato Un po' L'amartita Blah 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 Questa è la vita Di Emily E tutto Voglio vedere se c'erano Allora 20 dicembre Possiamo provare 20 dicembre Per Per il pin Non lo so Caro Charles Grazie per la tua Bella lettere Per i fiori Di compleanno di Chris Significa che Non ci manca E piacerebbe vedere Crescere Chris Anche noi manca Emily ogni giorno Ogni minuto che passa Siamo qui con te Blah blah Per sempre Continua a scrivere Ci mi raccomando Baci Peter Che è il nonno Suppongo Va bene Allora Intanto abbiamo Recuperato i petardi Ed è già qualcosa Allora Con i petardi Posso provare A far esplodere Il pupazzo di neve E poi voglio provare 20-12 O 12-20 Poi vediamo Per sbloccare il pin Magari appunto Una data importante Anche se io Non metterei mai Penso la data Di morte Ma chiesto Lo sapevo E poi abbiamo Anche le chiavi Della macchina Ancora Perché li sali Di fianco E' scemo Anche se vediamo Il babbo Aperto Ok E cosa ci manca Ci manca Il casco Mortacci sua La macchina Che sarà Un'altra cosa Telefono di Paola A sbloccare Proviamo a sbloccare Il telefono Con quel codice Che io Io personalmente Non lo metterei mai Però No Aspetta No Che fai Blocca Forse Forse la nata Di nascita La nata Che cacchio Sto dicendo La data di nascita Di cosa O può essere Anche il nome Chris Non so Quante cifre Posso mettere Può essere Chris Scritto Col numero C H R I S Non lo so Perché Sono troppo vecchio Forse Per queste robe Allora raga Sono andato a vedere Qual è il codice Praticamente Come funziona Adesso vi spiego Ricordatevi il nome Havt Davk Ok Ricordatevelo Perché Praticamente Dovete riscriverlo Con i numeri Sto dicendo Perché Quindi Allora L'h Sul 4 Havt Davk No No Davk Come si chiamava Davt Che cacchio era Come si chiamava Avt Out Daut Dav 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 Ah ok Sono andato a vedere perché ho controllato tutto E non esiste Cioè praticamente Ti spiegano anche che non esiste il modo per capirlo Come fa la gente a capirlo? Che cacchio sto giocando Il record era 256 Cosa che era? A parte che lo distruggo il record qua Distruggo il record raga Oh cacchio è C'è una No Fuck Ma ci sono gli avvolto Quelli sono gli avvoltoi con i missili Che cacchio sono? I lanciarazzi Orca miseria 287 Record Cioè Fuck Dovevo Dovevo battere il record ragazzi Ok Non mi è servito a niente Ma l'ho dovuto fare Mi serve il casco E' l'ultima cosa che mi manca raga Il casco Qua tra l'altro ho visto anche un'altra cosa che potevamo fare Ovvero brucia Ma non credo che ci darà il casco come cosa però Non so neanche dove rimediarlo un casco Perché nel Nel robola non c'è niente In bagno non credo Non so dove rimediare un casco Non puoi metterti questo Guarda Guarda che bello E' un cestino Cacchio il cestino E' vero non funziona il cestino Paledizione Il cestino dei rifiuti Non si può mettere quello in testa Una padella Padella Funziona Questa Guarda che bella Microonde Non lo so Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa che assomiglia a un casco Delle uova La scatola di cereali Non lo so Non vuoi niente Dentro il frigo cosa ci abbiamo Da mettere come casco Latte Cartone del latte Si beve a canna il latte Guarda Va bene Il latte a canna Poi freddo Insomma Che cacchio vuoi da metterti come casco Un bidone Ma che cacchio ne so Non puoi aprire i cassetti C'è niente nei cassetti Carta a sagnola Metti la carta a sagnola Cosa Perché la carta a sagnola Va bene Ok Devo colorarlo Con lo spray Ce l'abbiamo Perché si è messo la carta a sagnola Ma cos'è tipo la roba per Per non farsi leggere nel cervello No Le robe del genere Mentre niente Eccoci Vernice spray Vai Ma qui dove la mette Scusa Basta che non si vernice in faccia L'ha bevuta Va bene Certo Number one Grande Fortissimo Sto 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 ragazzino Adesso arriva il mostro di satan Alla dietro Tipo un ragno Lo punge morto Ho fatto Scusate Con il mio costume completo Potrei essere la nave spaziale Per scovarlo Raga abbiamo finito Credo Cioè abbiamo finito gli obiettivi Se può usare la macchina Non può Usare la macchina Non farlo Cioè se tipo adesso Il gioco è stato tutto tranquillo Lui accende la macchina Parte Si schianta e muore Ah no Ok fa sta buon Che si droga e basta Oh no Peter Shower Turn on the force field Too late Emergency SOS crash landing Va bene Va bene Che poi è anche figo Tutto ciò Bellissimo Dove è Metroid Metroid Sai che tu guidarì Vero Chi è Che cacchio ne so Quello è il È il babbo Salve Quello è il La buchetta Mantroid Show yourself You coward Fate vedere Forza Non posso correre Questa Questa Lui Essendo ovunque Sta contemporaneamente Scappando Contemporaneamente Combattendo È un grande Ah no Non è la buchetta Alla posta Quella Comunque You can't win this Your chissing ghosts I'm born now 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 No I can't I You Live No vivi Capitan Spirit Non puoi perdere Contro Mantroid Devi salvare Il pianeta Man No Mantroid Sono È l'incrocio Dove si è schiantata Sua mamma Le due vie Fanno l'incrocio Mant E Asteroid Mantroid No Tutto questo Era Per quello Cioè Quello si chiama Mantroid Perché è quello Cacchio fa No 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 Stai buono No di nuovo Cosa fa Di nuovo Una volta La faccio bene One hit Fuck you Non volevo fare questo Volevo entrare in casa Magari si è svegliato il padre Cioè praticamente lui ha associato questa roba A Alla morte di sua madre Oh Oh Frotto i ball Ok Si è bevuto comunque Tutta la bottiglia di whisky Si Si è sua voglia No 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 Faremo Non 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 E' un giocato gioco! Questo è davvero bello! Credo che ho spettato il piede. C***o! Chris... Perché mi ha scocciato? Mi ha scocciato a scocciato. Pensavo... Pensavo che hai detto... Il piede? Il piede? Non posso anche andare in casa mia. Devi essere attenzionato quando sei... Sì... 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 Sì, padre... Ok... Servizi sociali, immagino. Oh... Oh... What kind of costume is that? Boba Natale. I'm cocking spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just... 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 You know... Clean up the house and stuff. On a beautiful Saturday like this... You should be playing instead. On a social? E via. I saw you clearing the snow out of the alley, so I hope you don't work all day. Come fa a sapere che sono stato io? It's a laundry day. Um... Pruvazioni. Lordy, I thought... I don't know. But it was loud. And there's no other houses around. You probably heard me and my dad were playing the game. You kind of go crazy, so... Hmm... You're not the only one. I must be hearing things. I hope you have something else planned for today. Non c'è, tipo... Por... C'è, no, eh... Andiamo a comprare un albero. Oh, yeah. Me and my dad are gonna go buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Steven and I better get one, so we can start decorating. Oh, I love this time of year. Me too. And dad said we could get the best Christmas tree on the lot. Yeah. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Oh, that would be awesome. Well... I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. You're a good son, Chris. Forse lo dovevano dirgli, no? Sai che c'erano certe opzioni che ci... I'm only steps away from your house. If you ever feel scared... You can come visit us anytime. If you're not. You understand? I'm only steps away from your house. Okay. Sure. Thanks. Cioè, lei sicuramente sospetta. Ha ragione. Ha ragione anche e sospetta, però... Cioè, se lo diciamo direttamente noi è un'altra cosa, no? E allora che cacchio richiede a far? Mi chiamo Chris, non Chris. Ha ragione. In senso. Si chiamano geni. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! No, listen, confidently, Oh, no, l' cambio comp, Please from a of a Grazie a tutti. Bella raga, però mi sa che è il figlio di lei. Ma aspetta, non lo spiegano come ha fatto? Non lo spiegano come ha fatto a cadere a non ammazzarsi? Ah, no che di solito si mettono sempre, va bene gli effetti speciali però c'è lì, per carità c'è la neve sotto quindi probabilmente è caduto comunque e non si è fatto niente. Boh, ragazzi non so cosa dire, nel senso che io sono qua da due ore e non ho capito quello che ho giocato, nel senso ho capito quello che ho giocato ma non so cosa dire. Nel senso, sicuramente si nota che è stato fatto da loro, è di Don't Nod tra l'altro, che non è lo stesso di Life is Strange 1 ma è quello che ha fatto presente Before the Storm e quello che farà poi Life is Strange 3, che è un'altra cosa. Ad ogni modo lo stile è quello, cioè cercano magari sempre di fare una situazione quasi contemporanea anche, non proprio rosa e fiori, in questa storia avevamo un padre alcolizzato per colpa della morte della madre e il bambino che ovviamente l'unica cosa che può fare è giocare con la fantasia, sono le classiche robe che fanno loro. Però devo ammettere che non è a livello di un Life is Strange, sia di un Life is Strange 1, sia di un Before the Storm, ma forse anche meno di un Life is Strange Before the Storm e del DLC. Non so, mi è sembrato un po' lento, mi è sembrato un po' troppo lento come cosa. Tutti quei cose da fare, mi è sembrato un po' vuoto, avrei preferito magari più storia, non so, più commenti particolari. Era un bambino da solo, quindi non è che potevi fare molto, però anche magari quelle scene in cui c'era lui che parlava da solo con la sua immaginazione, un po' più di scene di quelle, magari, piuttosto che andare proprio a cercare un pezzo dietro l'altro. E qua abbiamo il robot per Life is Strange 2, che vi ricordo questo dovrebbe essere un prequel di Life is Strange 2, quindi cosa succederà in Life is Strange 2? Ci saranno questi personaggi? Ci saranno altri tipi di personaggi con altri personaggi? Perché comunque abbiamo visto che si intrecciano un po' le storie, i mundi, c'era il preside dell'altra scuola dell'1 che c'entrava con qua, quindi un pochettino si incastra qualcosa. Questo proprio dovrebbe essere il prequel del 2, quindi cosa succederà nel 2? Lo vedremo sicuramente più avanti, non so quando, anche perché adesso dovrebbe uscire il 3 a settembre, non mi ricordo bene. Non penso che lo giocheremo subito, anche se è scollegato, penso che giocherò comunque prima il 2. Ad ogni modo, io penso che per questo long play, per questo video, possa essere tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se l'avete già giocato, se l'avete visto da qualcuno. Io non posso fare altro che salutarvi, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Qui dall'Anulf è tutto. Ciao a tutti.